buonasera a tutti e oggi sono qui e vi propongo una nuova cosa ho comprato un'altra scatolina dei lego perché sono abbastanza fissata ora ve la faccio vedere guardate allora ora vi faccio vedere per bene se mi riesce aspettate dunque ecco come potete vedere questa è la linea speed champions che se non sbaglio l'hanno creata ora prima non c'era e tratta soltanto di macchine e questo come potete notare la ferrari guardate che spettacolo sono anche tutti gli adesivi dentro il prezzo è 15 euro bellissimo ora vi faccio vedere un po le varie bustine questa da tempo andate quanti quanti pezzi e questi sono i pezzi più piccini e sarà veramente un casino montare questa è la bustona enorme sono vediamo allora uno due tre quattro buste ma non dovrebbe essere troppo difficile questo è manuale usate manuale 1 manuale 1 e manuale 2 manuale e praticamente non vedo l'ora di montarla spero che non vedo l'ora montarla sperando che non ci dia dei problemi e spero che questa linea di video vi piaccia se vi piacerà questo video ne farò altri purtroppo non riesco a fare il video di mentre molto la macchinina perché è un po complicato purtroppo ancora delle difficoltà visto che non ho ancora la mia fine presa al top quindi mi arrangio con il cellulare però vi farò vedere il risultato alla fine bene pregate per me crociate tutte le dita che avete e ci vediamo al prossimo video ciao